Ciao ragazzi! E' uscita la nuova linea nerf! Qui con me ho lo scar di Fortnite Fortnite per nerf è uscito Sono talmente belli, mi piacciono talmente tanto Che ci potrei giocare 24 ore su 24 Guardate questo E' proprio un cannone, cioè fa... Adesso guardatevi il video, sono stato a Milano a provarli Volato sopra il tetto Sopra il tetto Ciao ragazzi! Siamo in partenza, siamo in viaggio per Milano E siamo stati invitati da Asbro Per provare i nuovi nerf di Fortnite Adoro i nerf! Ne voglio tanti! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ciao ragazzi! Ci sono alcuni dei nuovi nerf della Fortnite per nerf! In collaborazione con Asbro e appunto la nerf ci permette di stare in questa giornata gioviale qui insieme a tutti voi per fare uno scontro Martex invece, sempre Youtube, eccolo qua Martex da Multiplayer.it, dalla vedazione Multiplayer.it c'è Luca a suon con il cappello E' stato il primo dove contestare, quindi abbiamo già sparare tutti i golvi letteralmente sulla scritta netta Quasi sembrava che volesse colpire questa, naturalmente No vabbè, ma scritta parte, dimmi dai se ci sarei perché possiamo partire subito con le autori Se metti in posizione... Si siamo, si siamo, vai parte con il gatto! 3, 2, 1... E' stato un bel primo! E' stato un bel primo! Pazucano! E' stato un bel primo! 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 Che sono ben favourite? E' stato un bel primo! 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 Pazucano! Un kleinulo! Anche i lì picando noti potrebbero! Anche i lì piccoli fuori day! Di rome all', è stata un bel primo popping! Ancora un programma. E diventerà un sottotit. Stop! Ine del tempo, dai vedi! A presto. E poi, dal giro. A presto. A presto. A presto. Per ricaricare bisogna calare in basso e metterli dentro su quante ce ne stanno. Adesso non so il caricatore da quanti pulpi prende. Ragazzi, ragazzi, mentre ricamerei Marco Merrino, ci vediamo, ti inviterei a trovare questo blast. Questo è precisissimo. Ragazzi, spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto il video, iscrivetevi al mio canale, ci sono da Leonardo e Nerf, dai, portate per l'elio, asco. Ciao ragazzi. Ragazzi, sono in macchina, mi ritorno a Milano. Sto spacchettando lo scarro. Quanti colpi che ci sono. Quanti colpi che ci sono. Grazie a tutti.